Madonna, se non si capisce dal fumo che fa, da quanto fa freddo, ve lo dico io, 11 gradi, madonna l'alfumina che tira, porca punta, cioè ha piovuto, in questo video c'è un grande cambiamento, e non è il meteo, ma non la uso da una settimana e sembra di non averla mai guidata, cioè è strano, troppo strano, non si scalderà mai, ma comunque penso che abbiate capito qual è il cambiamento, cazzo però dai, volevo evitare di lavare la moto dato che è un po' piena di polvere, però così un pochino troppo, scuso per l'inquadratura perché sarà sicuramente troppo bassa, però penso che l'abbiate capito, cioè più che altro avete capito che ho il microfono, ma nel caso non si fosse capito, non è che ho cambiato il microfono, ho cambiato video camera, che supporta il microfono, perché comunque qualche video tempo fa l'avevo fatto con il microfono, sono sicuro che ci sarà lo stesso rumore del vento, perché ho il casco che non ha il paravento, il paracoso che va sotto il mento, il paramento, invece la qualità video praticamente, voi non lo notate, perché su YouTube non è che si veda tanto, però in fase di montaggio io l'ho notato, la qualità di definizione, sempre essendo full HD, cioè 1080p, non so, arrivo a 4K, però 4K non ha senso, comunque pur essendo sempre full HD, è il doppio più definito all'immagine praticamente, non mi fa piegare più di così la videocamera, quindi punta un pochino verso il basso, e diciamo che col festo non vedevo neanche la strada, con questa veramente non lo so, spero per voi, e anche un po' per me, perché è un pochino brutto, che vediate la strada, altrimenti l'esterno. Potrei importarvi anche i video in 4K, però sinceramente non ne vedo tanto giurità, almeno ora, perché quanti di voi possono vedersi i video in 4K, con la connessione, e quanti di voi hanno un monitor 4K per vederli? Lo farò! Ora, adesso vedete dunque un'innovazione di quello che ho fatto, non so, farò uscire un video molto più avanti, dove l'ho già testato, dove ho fatto un po' di test, della nuova Xiaomi i4K Plus, ora dobbiamo riuscire a vedere se riesco a scaldare la moto, perché non so, non ho mai provato il microfono esterno, questa è la prima volta, quindi non so come si sente, so che un po' di rumore ce l'avrà per il vento che entra comunque, però sempre meglio della vecchia di base che avevo, se mi metto così vedete solo il stacchimetro, non so se state vedendo la strada, perché vedere la moto e basta fa cagare, cioè, nel mentre è arrivata la rave, potrei tranquillamente fare il video del ripotenziamento, e molto presto penso che lo farà, non ce lo vai a superare, sono le moto, capito, però cazzo se lo posso fare, a me si è freddo però, ancora due tacche ha, ho fatto 6 km, 7 km, ok che sto guidando come una vespa originale, però, cioè, se a me vorrei dire tanto a questi qua che stanno guidando, che non sono a piedi, e fare 38 all'ora mi sembra un pochino troppo, perché vi faccio in bici, c'è un sorpasso che... ma fa un rumore strano, cosa c'ha? vabbè dai su c'è, fa un rumore che... boh, non lo so, che palle... ma perché sto andando di qua? cioè io non riesco a... intanto vedete che le tacchette sono scese a due, non so perché ah... porco di... ma vedi che... non è... no, no... non è una sta cazzo di moto oggi, non so cosa c'ha dio, non sento neanche il rumore, non va, cioè è spenta praticamente, sicuro veramente qua... madonna quanto c***o mi fa girare i corr***i quando sbolla in sesta, in sesta è la cosa peggiore, la marcia peggiore dove puoi sbollare la sesta, Gesù Cristo, perché in sesta sei a bassi i giri, no? però l'acceleratore sei a metà quando sei a bassi i giri, poi non ti esce la marcia, te vai la manetta a questo c***o di... poi non è che vada con un quattro tempi, però... cioè, a suo punto mi prendo un quattro tempi che va un pochino meno, però comunque... guardate, due tacche, io ho fatto tre giri del paese ed è ancora due tacche... io come faccio ad andare in giro d'inverno con un due tempi? cioè, qualunque due tempi penso che non vada... ora... vediamo se riesco a cadere anche con questa moto in curva, perché le gomme in questo momento sono esistenti... sentite che ci mette 75 anni a tornare al minimo... non posso fare niente, perché io ho paura di piegare con 10 gravi al sole... ah, finalmente un po' di strada perfettissima... volevo mettere la freccia... l'ho fatto per mettere la freccia, mi è entrata la frizione... senti come sta su di a... aia madonna... no, non c'è niente... aia... aia... vabbè dai... come c***o si fa a fare una rotonda così merdosa... 5 km orari perché sennò... ho paura che non tienano a niente... vabbè, vabbè, te sei come me, sei... la metti domani la freccia... prima... vada signora 308... l'importante è che non giri a destra perché sennò ti spacco... e vai dentro con la curva e poi cado... un video dedicato più interessante... quindi niente, vi ringrazio... e ora devo vedere se riesco a stopparla... come si fa a stoppare? problematico in situazione... aspetta eh... no, non riesco... non mi ricordo da che parte è... aspetta che mi fermo un attimo... oh... c'è un mio tassino...